Amici di Sport Today, una buona giornata. Parliamo oggi di calcio, sì, parliamo di Champions League, ma lo facciamo in un modo un po' diverso, cercando di andare a capire perché il disastro italiano continua e perché soprattutto non ci sono giocatori italiani nelle squadre che se la stanno giocando per la Coppa che vedete al mio fianco. C'è un allenatore, Carlo Ancelotti, che ha rischiato molto ieri sera con il Real, ma alla fine, come si dice anche ai Giardinetti, l'ha portata a casa. A parte Carletto, l'Italia non c'è più, l'Italia è sparita completamente. Il Villareal, che aveva già eliminato Juventus, ha continuato la sua corsa buttando fuori anche il Bayern, quindi dimostrando che non era un caso quella vittoria con i bianconeri, però questo non deve servire come giustificazione per il fatto che anche con la Juventus, la squadra più forte che abbiamo da tempo in Europa, non siamo presenti. La crisi del calcio italiano è evidente, si vede un po' dappertutto. Chiaramente questa è la punta dell'iceberg, ovvero il fatto che non ci sia l'Italia, a parte come dicevamo Ancelotti nella gota del calcio. Tutto il resto però parla da solo. Io l'altro giorno ho avuto la sfortuna di vedere Bologna-Sandoria, da Sandoriano ho provato dopo un mesetto a vedere la mia squadra ed è stato uno spettacolo realmente indegno. Questo al di là della sconfitta della Sandoria, avesse anche vinto 2-0 la Doria nei confronti della Bologna sarebbe stato lo stesso. Comparare le due partite, quella tra il Chelsea ieri sera e appunto il Real Madrid e quella del Bologna con la Sandoria è quasi una bestemmia, anzi diciamolo proprio, è una bestemmia. Sono due sport completamente, completamente diversi, che non c'entrano assolutamente niente l'uno con l'altro. Da una parte due squadre che comunque sono nella seconda fascia della classifica, però potrebbero anche giocarsela volendo anche per un posto in Conference League. Il Bologna non c'è, non esiste, però insomma non sono due squadre pessime, anche come palmaresse, dove nessuno ha fatto una cosa giusta. Al di là del gol preso dalla Sandoria con Yoshida, che ha ciccato il pallone, al di là di gol sbagliati e tutto il resto, pochi, anche quelli perché ci sono stati pochi in tiri in porta. Non c'è stato niente di positivo in una partita. Dall'altra parte tutto, al di là del 3-0 iniziale del Chelsea, la rimonta del Madrid, tutto quello che è successo, nessuno ha sbagliato, quasi un passaggio. Giocatori perfetti in tutto e per tutto. Siamo lontani a Neluce, a qualsiasi livello. La Juventus stessa, prima di perdere con l'Inter, era in striscia vincente nel campionato italiano, non so quante partite, più di 10, forse 14, cito a Noria. Però tutti dicevano che giocava un calcio bruttissimo, ed è vero. Ieri invece abbiamo visto due squadre dove c'era un bel calcio, una ha perso, l'altra ha vinto, però il calcio bello c'è stato con tanti gol e comunque tanto spettacolo. Per quanto riguarda invece il resto, giocatori italiani all'estero spariti. Ricordate magari i tempi di Zola, che è andato in Inghilterra, proprio al Chelsea, e ha giocato anche da protagonista, Di Canio, che nel Lugestem ha fatto, se vogliamo, la differenza. Pochi nomi sparsi, ma neanche quelli non ci sono più. Noi siamo veramente spariti nel nulla, e anche come modo di fare. Vi faccio un esempio per chiudere. Ieri Marco Salonso ha segnato con il Chelsea, il gol è stato annullato per un fallo di mano molto sospetto, però prima della VAR lui ha esultato in un campo avverso, come se niente fosse. E voi mi dite, perché mi sta raccontando questo bagata? Perché Marco Salonso è nato e cresciuto nelle giovanille Real Madrid. Quindi in teoria doveva avere il rispetto che non esiste nello sport nei confronti del suo stadio della mente da piccolo. In Italia il giocatore non avrebbe esultato timoroso, avrebbe rispinto i suoi compagni. Lì invece è stata festa e nessuno ha detto niente. Poi il gol è stato annullato, ma lui non lo sapeva in quel momento. Anche questo è un segnale che noi siamo diversi dal resto del mondo del calcio. E lo siamo nella peggiore accezione dei termini. Grazie.